Al via sabato 6 luglio i saldi estivi, le stime di confesercenti prevedono uno sprint dopo mesi di deludenti vendite a causa del tempo che ha frenato i consumi. Si parte subito con interessanti percentuali di sconto dal 30 per salire fino al 50%. Ogni famiglia, annuncia il vice direttore di confesercenti Valeria Alvisi, spenderà circa 300 euro. La spesa a procapite prevista è invece tra i 100 e 110, perfettamente in linea con quanto accaduto lo scorso anno. A rendere ancora più attraenti i saldi c'è la voglia di spendere, frenata fino a poche settimane fa, dall'incertezza meteo. C'è quindi voglia di riscatto sia tra i commercianti che tra gli acquirenti che si preparano anche a partire per le ferie e sono predisposti a fare acquisti. I consumatori potranno contare sulla professionalità dei commercianti della rete dei negozi di vicinato che anima i centri storici del territorio e le arterie commerciali dei quartieri nelle varie città della provincia Aretina, Valdarno, Casentino, Valdichiana e Valtiberina.